Abbiamo celebrato in questi mesi, un anno ormai quasi, come sempre i grandi avvenimenti della vita di Chiesa che sono un po' gli elementi grandi della storia della salvezza operata da Gesù Cristo con la forza dello Spirito Santo. Abbiamo celebrato appunto il tempo del Natale, abbiamo celebrato il momento centrale e forte della Pasqua. Ci siamo soffermati, Pentecoste è appunto il dono dello Spirito, questo è un po' il cammino dell'anno liturgico dove noi attualizziamo, perché non facciamo solo commemorazione di belle cose passate, ma mentre le celebriamo il Signore le struttura oggi e struttura noi attraverso il celebrare, attraverso la liturgia. Al termine abbiamo incrociato alcune feste, alcune solennità, tra l'altro come vengono chiamate, la solennità della Santissima Trinità, andremo a celebrare in questo fine settimana la festa del Corpus Domini. Don Riccardo, mi sembra quasi questo mettere al termine di questo cammino, questi momenti, quasi un tirare un po' le somme, quasi un andare alla sorgente perché non abbiamo a perdere il senso di quello che abbiamo celebrato e che torneremo a celebrare. Direi un pochettino andare a bere là dove quell'acqua fresca che ci è stata data per il cammino ordinario della nostra vita trova il suo inizio. Queste feste sono un po' la sintesi, sono un po' la sorgente. Certo, sintesi, sorgente, ma mi piace anche pensare, Don Leone, che appunto quando sappiamo che il tempo è quello che è chiamato ordinario, c'è una piccola finestra tra il tempo di Natale e la Quaresima e poi dopo si riprende, dopo la Pentecoste, finito ormai il tempo di Pasqua, si ritorna col tempo ordinario. Ma non è da pensare come un tempo, vabbè, tempo ordinario normale, abbiamo finito le feste, quindi vabbè, andiamo avanti, le nostre pause domenicali, poi magari qualche festa patronale lungo l'estate che qui nei nostri paesi o di qualche santuario, di qualche santo, superi monti, eccetera, che non stonano mai, però è il cammino normale. Invece no, bello che anche il tempo normale in questa seconda finestra parta con delle grandi solennità, la Trinità, il Corpus Domini, la solità del Sacro Cuore, quasi a dire che comunque la vita con il Signore diventa qualche cosa di solenne, diventa già una realizzazione di qualche cosa che rimanda all'eternità. Non è anche lì solo un crescendo che poi culmina con l'ultima domenica del tempo ordinario, la solità di Cristo Re, ma parte da solennità e arriva a solennità. Quasi dire che la presenza del Signore comunque è qualche cosa che porta festa, è capace di colorare davvero con le tinte grandi dell'amore anche il tempo normale, non magari accompagnato dalla memoria e dalla riattualizzazione dei grandi eventi della storia della salvezza. Tra l'altro questa solennità della Trinità che abbiamo celebrato direi è fontale, è proprio la fonte. È peccato che a un certo punto qualcuno sembra entrare un po' nell'assurdo, un mistero un po' assurdo questa Trinità, Dio che è unico però nella comunione di tre persone, che storia è? Che poi invece se la leggiamo veramente illumina il volto di Dio e alla fine illumina anche il nostro volto se è vero che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Per cui direi fuori ecco da quello che è uno schematismo razionalista nel voler capire tutto del mistero di Dio e quindi pensare che se non arriviamo noi con la nostra ragione a percepire tutto deve essere qualcosa di strano, di fuori di testa e così via, quando invece lì si trova veramente la sorgente e la conoscenza vera di un Dio come lui stesso si è manifestato e come aiuta noi a capire chi siamo proprio perché strutturati secondo Dio. Ma certo, è vero che gli uomini hanno sempre cercato di comprendere anche con l'intelligenza che è dono di Dio quindi non è qualcosa di sbagliato la realtà di Dio, diciamo noi il mistero di Dio. Ecco quando noi diciamo mistero non è che intendiamo qualcosa di non capibile quindi lo prendi così come è buono, te lo prendi nella testa e non ti fai tante domande perché tante volte rischiamo anche noi di pensare questo. Mistero vuol dire che è comunque una realtà che va al di là di quello che tu puoi comprendere pur con saggezza, con intelligenza, con un uso saggio della ragione, ci mancherebbe. Però è sempre qualche cosa che va al di là. Ecco a volte la ragione per dire le cose di Dio sarebbe come se io pretendessi solo con il ragionamento di comprendere la bellezza della musica. Certo che con ragionamento ti posso dire vedi questo accordo, c'è la distanza di tale, ci sono queste armonie, queste disarmonie che poi si risolvono di qua e di là. Però ti stufa un discorso del genere sulla musica, invece se tu la ascolti ecco che questa musica pervade comunque tutto. Poi puoi anche ragionare e capire alcune dinamiche che ci sono all'interno. Così penso sia un pochino il nostro approccio a Dio. Ecco, dire che Dio sia Trinità vuol dire che dobbiamo vincere quella tentazione di pensare Dio come il perfettissimo che è pieno della sua onnipotenza, della sua pienezza, della sua armonia, della sua bellezza che sta bene per conto suo. No, al suo interno Dio è famiglia, è amore, è scambio d'amore, c'è il padre e il figlio, c'è questo amore così grande che è una realtà stessa di Dio, che è lo spirito, che non rimane lì solo tra loro due, ma qualche cosa che tracima, che genera, che dà vita, che dà colore alla realtà un po' inaridita che c'è sulla Terra. E quindi questo ci ricorda, dicevi saggiamente, fatti a immagine e subiglianza di Dio, la bellezza della nostra umanità è nel momento in cui siamo trinitari anche noi, capaci di creare dei bei legami, delle belle relazioni, di scommettere il bene dell'altro e di fare che questa stima reciproca divenga talmente intensa da tracimare, da irrigare un pochino tutta quella aridità che c'è magari attorno a noi. E poi la singolarità della fede cristiana. Noi abbiamo rispetto per carità per tutte le religioni, per tutti i credenti, però abbiamo questa grazia di aver potuto incontrare Gesù Cristo, figlio di Dio, che quindi ci ha parlato lui direttamente di qual è il volto di Dio e ce l'ha rivelato appunto come realtà di comunione, perché anche noi siamo chiamati, strutturati su Dio, ad essere gente che crea comunione, come dicevi, che crea buone relazioni. E' veramente l'originalità cristiana, non potevamo immaginarcela una realtà simile se non ci fosse stata appunto rivelata da Gesù Cristo. E quest'altra festa della Corpus Domini. E qui ci tocca un pochettino entrare nel discorso di una chiesa che tutti i giorni, se vogliamo, ma soprattutto la domenica, il giorno che ricorda e fa memoria viva della resurrezione di Gesù, si ritrova a celebrare questa presenza del Signore tra di noi che si è consegnato nei segni sacramentali del pane e del vino. Don Riccardo, sembra che la partecipazione alla messa non sia proprio così gettonata in questi nostri tempi, anche se molti appunto ancora fanno riferimento. Rischiamo un pochettino di perdere però quello che è il regalo e di non celebrare, di non accogliere quello che è stato poi il regalo più grande che Gesù Cristo ha fatto di se stesso nella cena ultima, dicendo poi anche fate questo in memoria di me. E rischiamo anche di perdere il luogo principe in cui si struttura la chiesa. Come in una famiglia ci si trova e ci si struttura perché si vive nella stessa casa, perché si condivide la stessa mensa, perché ci si trova a dialogare sulle cose importanti della famiglia, così dovrebbe essere intesa io credo la realtà della Eucarestia, della messa a cui siamo invitati. Certo, mi piace anche pensare Don Leone che potremmo anche dire ma non bastava il Giovedì Santo che è una giornata eucaristica straordinaria per fare memoria e sottolineare l'importanza, la straordinarietà di quella che appunto il Concilio Vaticano II, non inventando niente, però con una felice intuizione definì la fonte e il culmine della vita cristiana, l'Eucaristia, da lì parte tutto ma lì anche il punto più alto della vita cristiana, della vita di una comunità cristiana. Ecco, forse non bastava solo il Giovedì Santo perché lì magari sottolinei di più la dimensione potremmo di noi sacrificale dell'Eucaristia, quindi il fatto che in ogni Eucaristia si rinnova, diciamolo un po' con il linguaggio tradizionale, seppur in maniera incruenta, quel sacrificio di Cristo sulla croce. Quindi Giovedì Santo Gesù anticipa in quel gesto, consegnandolo poi alla memoria ma anche alla pratica, alla celebrazione dei discepoli, anticipa e perpetuerà quel sacrificio totale che fa di sé sulla croce e che si rinnova per noi perché divenga davvero una fonte di ossigeno per la nostra vita, che non possiamo pensare di campare con l'ossigeno di duemila anni fa. Quindi quell'evento storico si rinnova nel mio presente perché la mia vita possa trarne frutto e beneficio. Il giorno del Corpus Domini invece magari guardiamo all'Eucaristia che è un mistero grandioso e quindi va visto anche un po' sotto diverse sfaccettature perché non riusciamo a comprenderlo tutto, vedendo quasi l'anticipo di paradiso che c'è nell'Eucaristia. Quindi la presenza reale del Signore, il fatto che nel pane e nel vino consacrati, diciamola un po' volgarmente ma lo ci intendiamo, c'è dentro il Signore con tutta la sua vita, con tutta la sua originalità, con tutto il suo amore. Pensiamo che anche storicamente questa festa che poi pian piano si è diffusa e è diventata una festa universale, nasce comunque come memoria di un segno straordinario, il famoso miracolo eucaristico di Bolsena, quindi quel prete che è pellegrino tedesco che dubitava un po' fino a che punto il Signore fosse presente e durante la celebrazione della messa, di ritorno dal pellegrinaggio che aveva fatto a Roma per chiedere al Signore che lo aiutasse a diventare un uomo più di fede, anche se era prete, vede che quel pane che sta spezzando e quel vino si sono trasformati in carne umana e sangue. E quindi per perpetuare la memoria di questo segno, e poi ci sono stati tanti altri miracoli eucaristici nella storia della Chiesa, ecco che la Chiesa ha detto sì, facciamolo la festa in cui guardiamo all'Eucarestia come a quel pezzo di paradiso che scende, che si consiglia il nostro tempo per ricordarci che siamo fatti di eternità. Ecco, tutta una storia cristiana che tra l'altro, direi, nasconde il suo segreto in una celebrazione che percorre tra l'altro tutto questo mese di giugno dedicato appunto al Sacro Cuore. È una festa che non casca di domenica, la celebrazione del Sacro Cuore di Gesù casca in settimana. Però l'abbiamo un pochettino ridotta, o tanti forse possono rischiare di ridurla, a una devozioncella. Una devozione, passami il termine, un po' per cuori fragili, per persone un po' amanti dei bei sentimenti. Credo che invece è proprio in questa liturgia, attorno al simbolo, chiaramente, perché poi come tale va preso, secondo il nostro modo anche di pensare umanamente, del cuore, direi che c'è dentro un po' l'espressività concreta di quello che è il segreto di Dio e di tutta la sua opera verso di noi. Ma certo, hai ragione, guarda, anche nel corso della storia della devozione, della fede, della fede cristiana e quindi anche della devozione al Sacro Cuore, c'è stato comunque un periodo in cui è stata fortemente osteggiata la devozione al Sacro Cuore perché era vista un po' come una deriva troppo dolciastra. Nasce un po' nel 1006, legata alle figure di San Giovanni Eud e di Santa Margherita Maria Alacoque, che appunto avrà delle visioni dove il Signore dirà che il suo cuore, pensando comunque anche a quel cuore di cui parla anche l'Evangelista Giovanni, quel cuore spezzato dalla lancia da cui scaturì sangue ed acqua, segno comunque dei sacramenti. Il cuore, anche nel linguaggio comune nostro, diventa, non è tanto da vedere come il muscolo cardiaco, ma come quell'organo che dice la parte anche più profonda, più intima, più sentimentale, ma nel senso nobile, non sbrodoloso nel termine di una persona. E quindi ci ricorda che la devozione al cuore di Gesù, che tutto quello che il Signore fa, lo fa per amore a Dio Padre, ma lo fa per amore dell'umanità. E nel corso della storia poi della devozione al Sacro Cuore, il guardare al cuore di Gesù ha sempre portato in sé anche una caratteristica dal leone che noi abbiamo un po' perso, il fatto della riparazione. Quindi il cercare di onorare il Signore contemplando quel cuore squarciato che tante volte è colmato di indifferenza. Ecco, penso che a tante persone capita di amare una persona e tu ricevi tanta indifferenza da questa persona che tu ami visceralmente, che sia il tuo amoroso o la tua amorosa, che sia il figlio che è ribelle. Quanto soffri tu amando qualcuno che poi è un po' freddo nel riamarti? Ecco, sapendo anche noi la pesantezza di questo, giustamente si dice chissà quanto soffre il Signore che ama visceralmente in maniera perfetta chiunque nei confronti anche di tanta freddezza, di tanta indifferenza, di tanta ostilità. Quindi anche il tentativo, se vogliamo molto anche sentimentale, però anche profondamente umano di dire al Signore ecco, voglio starti vicino, voglio amarti pensando anche a quanto tu soffri amando così visceralmente l'umanità e essendo così ripagato in maniera superficiale. Siamo nell'Ottocento, niente meno che a Parigi, qualcuno pensa a Parigi, la Tour Eiffel, il Louvre, qualcuno pensa al Moulin Rouge, ovviamente anche, a Parigi c'è Montmartre, credo che l'abbiamo sentito tutto questo termine, che richiama il Monte dei Martiri, quindi è fortemente caratterizzato da un ricordo cristiano, questo luogo solenne di Parigi. Sulla collina di Montmartre una grande basilica, la basilica del Sacro Cuore. Penso un pochettino in quella Parigi, in quella Francia che oggi sembra un pochettino anche, pure lei prendere un po' distanza tante volte dalla vita di fede, dove però ci sono anche dei fermenti veramente stupendi anche in questo nostro tempo, nella Parigi, capitale della Francia, il luogo alto è dedicato al Sacro Cuore. È poi vero che, andiamo un po' anche nelle nostre chiese, credo che una statua del Sacro Cuore, un'immagine del Sacro Cuore la troviamo. Ecco, è bello proprio educarci a questo sguardo a Gesù Cristo, che va poi all'Eucarestia, soprattutto chiaramente luogo sacramentale, e sia portato attraverso anche il sentiero di una immagine, di una statua del Sacro Cuore, nella misura in cui appunto non ci distanzia dalla sostanza del discorso cristiano per metterci un po' appunto in qualche pio sentimento e basta, ma ci riporta in fondo a quello che è il fatto determinante, quel Dio ha tanto amato il mondo e in Gesù Cristo ha detto tutto il suo amore, il cuore, come simbolo di questo. Credo che il fatto anche di questi luoghi vada valorizzato, credo, in questo senso. Certo, luoghi, Don Leone, anche i tempi. È vero che magari è andato un po' in disuso, però c'è ancora qualche segno nelle nostre parrocchie del primo venerdì del mese. Magari un momento di adorazione prima della messa, dopo la messa, magari il fatto di fare la comunione al primo venerdì del mese, la confessione, qualche persona e non solo gli anziani che per il primo venerdì del mese fanno la confessione per poi fare la comunione. Ecco, anche qui è legato sempre alle rivelazioni di Santa Margherita Maria Alacoc, che appunto, Sacro Cuore disse, ecco, propaga questa mia devozione, la devozione al mio cuore che tu hai potuto sperimentare come la sorgente davvero del grande amore che io ho nei confronti dell'umanità e fa in modo che le persone si impegnino nell'arco della vita a fare per nove primi venerdì del mese la confessione, la comunione, un momento di adorazione e io prometto che a queste persone non le lascerò solo nel momento della loro morte, ma le prenderò e le accompagnerò in paradiso, che non è da vedere un po' come un'assicurazione per dire, faccio i bei nove primi venerdì del mese, è suo a posto, poi posso fare una vita... No, però è bello che almeno una volta al mese ritorni questo pensiero, il fatto di mettere davanti al Signore la nostra vita con le sue contraddizioni, ricevere il grande dono del suo amore, ripartire, gioire della presenza straordinaria del suo amore che è presente nell'Eucarestia, no? Tu citavi prima la Basilica del Sacro Cuore a Montmartre, non è un caso che lì sia la Basilica, la Chiesa, dove c'è l'adorazione perpetua, dove è sempre esposta all'Eucarestia e tu vai lì per fare adorazione, c'è sempre un luogo dove tu puoi adorare il Signore, certo, perché laddove tu contempli il suo amore, dov'è il modo più alto se non nell'adorazione eucaristica? E quindi è bello pensare che anche questa devozione che si spalma non solo un giorno all'anno, ma lungo tutti i mesi, il primo venerdì del mese, sia comunque qualche cosa che ci fa capire che siamo sempre sotto la fonte di energia dell'amore del Signore. Tra l'altro pensiamo anche a diverse congregazioni religiose, ne ricordiamo soltanto due che fanno riferimento al Sacro Cuore, quelli che noi chiamiamo i Deoniani, ce ne sono anche un po' nelle nostre realtà diocesane, questi Deoniani, i sacerdoti del Sacro Cuore, sono chiamati, addirittura quell'istituto missionario fondato dal Comboni per l'Africa, anche quello si rifà al Sacro Cuore. Ecco, tra l'altro è detto Santa Maria, Margherita Maria Lacocque, l'invito a esporre anche nella propria casa chi ha il crocevisso, chi ha un'immagine della Madonna, veniva suggerito di mettere magari un'immagine del Sacro Cuore, perché è proprio il richiamo all'essenza del volto di Dio, all'essenza della nostra fede e del nostro dialogo con questo Dio. Tra l'altro, andando a chiudere Don Riccardo, pensando al primo venerdì del mese, come tu dicevi, legato appunto alla devozione al Sacro Cuore, quando i malati aspettavano la visita e aspettano e ricevono la visita del sacerdote per la comunione mensile, quando in genere, se è possibile ovviamente il primo venerdì del mese. Questo penso che sia un bel segno, il fatto che anche coloro che vivono la fragilità, la sofferenza, la malattia, attendono il primo venerdì del mese perché quello è il richiamo al Sacro Cuore di Gesù, è il richiamo all'amore di Gesù, alla certezza che il Signore non abbandona mai, tantomeno nei tempi della sofferenza e della fatica. Il Sacro Cuore di Gesù, simbolo dell'amore di Dio per l'umanità. Riccardo, ti ringrazio ancora di la tua testimonianza, sempre puntuale, sempre frizzante e grazie a voi come sempre che ci avete seguito. L'augurio di una buona domenica.